Ogni nuovo inizio porta in sé un pizzico di paura, ma anche di emozione. E oggi forse ancora di più. Tutti ci stiamo preparando, perché vogliamo continuare a crescere. Condividendo esperienze ed emozioni. In modo... in modo un po' diverso forse. Vi aspettiamo! Grazie per la visione! Grazie per la visione!